giochiamo come killer e intanto mi mangio un milk and go killer il cacciatore vediamo una lobby obi one per l'hobby eccoci qua che sono già le 11 no apposta che ti ti compare qua da andiamoci con no 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 20 minuti, 20 minuti più in uno dei stream non mi si fa non mi si fa no va bene no va bene è buono sai questo non mi no non so io mando eh ah sì ma io adesso mettiamo date è forte qua e mangio come state? tutto bene? tutto a posto bene a casa di thompson e vai c'era una bella trappola qua io no e se non ti richiede l'ida godi solo la metà no 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 sono james taunt e che cazzo dai dai sete di sangue baglia secchiare il tuo sangue dove sei? oh eccola eh eh sì sì aspetta aspetta a me che cazzo è andata? ah è andata di qua cazzo Nicola di Bari no 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 di qua di qua ah ecco no 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 di qua leggiamo bene le tracce sentila 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 uuuu dove cazzo è andata? vaffanculo eh l'ho persa ci cagherei una bella trappola qua giusto così è? no c'è un cazzo ehi ehi la no 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 tornate indietro tornate indietro guarda cioè eh di qua ma che cazzo cazzo cioè io dico veramente che cazzo ti frega di far scattare una una cosa cioè vabbè cagherea dove cazzo sto andando ragazzi cioè io la metto qua di nuovo intanto so già che so già che perdo è inevitabile è inevitabile è inevitabile è inevitabile chi è zabbo 89 eh cagare vai eh ci metti tre ore sì 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 eh non t'ho visto no non t'ho visto no eh ho capito dammi ma perché mi devi spaccare la ma stardo dai dai dove è andato dove è andato di qua dai cioè minchia che merda di partita che merda dai salta la tua madrisa e che cazzo anche sta qui no sono andati di là sono andati ce lo dico io un po' hai visto hai visto vaffanculo tutti mi sono scappati dai che cazzo e gli altri scapperanno di là fisso fisso guarda mi ci gioco eh no no non ci credo non ci credo intrappolato io no dai scappa 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 cazzo cazzo dove è andata dove è andata sta maledetta maledetta passata di qua nooo bastarda benigni è scappata vaffanculo no che partita di merda guarda che partita di merda no non è possibile non è possibile dai oddio madonna dai dissimulazione brosa aiuta hardcore gamer sei proprio eh eh dio mio oh proprio è così così guarda così eh ora vedremo chi la duro vince chi la duro che ricca me c'è vado colpire un sopravvistuto sano gli trasmette un breve aumento un breve aumento di velocità ja eh sì l'è proprio vero è proprio sì cosa non si sa morte a 33 giri eh guarda un po' paris 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 ah dai ce la può fare a caricare? mi avvicino un po di più il filo qui dietro no 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 ok ci siamo demolizioni auto heaven too much for heaven ah colini c'è già star lord allora no no eeeeh 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 ma non ho ancora capito questa cosa di iniziare già col qualcosa boh sarà un motivo no? ecco eeeh ma allora allora aspetta va qua va lì lo sai no strano aaaah eeeh eeeh benì ma se sei forte eh tan 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 c'è la torcia c'hai se lo so l'ha fatto scendere dai eeeeh eeeeh e dai eeeeh 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 eeeh 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 dai eeeh dai Dai che non succede niente E tre Ecco Ecco Eh ho visto Eh guarda un po Guarda un po Eh guarda Oh Qualcuno Ecco fatto Ah tosse Ah tosse Ah tosse Ah tosse Ah tosse Ma ecco faccio Ecco fatto Dai Magari se no Ah tosse Ehi, ma io non so sti qua. Ehi, ma io non so. 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 Ecco fatto. E vai. Ehi, ma io non so. Lo sapevo. Lo sapevo. Ehi, ma io non so. Ehi, ma io non so. C'è qui dietro. Ah, ecco qua. Ciao. Ciao. Oh, e due sono andati, signori. Due sono andati. Ehi, ma io non so. 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 Rob Forchetta in tendenza? Impossibile. Rob Forchetta in tendenza su YouTube? No dai, non ci credo. Allora faccio anche un video con scritto Pietro Smusi, faccio la canzoncina Pietro Smusi. E' andata. Ah, bene, bene. U2. DG. Calculated. Nia. E' italiano. Chiede amicizia. Allora, dai, creiamo una lobby di nuovo. Allora... 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 ok... a posto vai ops perdono scusate ah signori dio parlo poco eh stasera parlo poco ma c'è qualcuno o proprio nisba nisba è proprio man me lo prego è proprio un cazzo ah gesù ah torrenti del tormento fattoria di cold wind vai ecco signorina signorina venga eh c'è un debole per le asiatiche io guarda vieni qua no va a fare ecco fatto te vattene dovevi fare no dai scherzavo che cazzo decisivo strike fa un culo ti prendo guarda ti prendo anche in capo al mondo ti prendo guarda ah 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 vabbè dai eh lo so che c'è di te so già so già eh ma e ne andiamo direttamente da lei perché la nostra preda è la nostra preda ops come mi dispiace questo qua è un pre made bello e buono dove sei guarda che mi vuol fare ecco la roba lì si la salva no non la salvi beh sei dai te la lascio salvare vai dai vai eh eh vabbè sto qua è un pre made ma mi ci gioco sai cosa eh e vai a cagare vai ma non mi freghi ma non mi freghi eh ebbene è la mia ossessione ti inseguirò fino in capo al mondo ecco fatto ecco fatto volevate salvarla per forza ecco fatto ahhh ahhh andiamo a posto dai dai dina qua sei proprio forte Sì, sì. Sei proprio forte. Vieni, vieni, ti porto giù. Ah, no. È andato di qua. Sì, sì. Sono ostinato, guarda. Sono ostinato. Vai, vai, vai. Ops. Ecco fatto. Sì, sì. Ecco. Ma lo sapevo già, cioè. Dove è andato? Aspetta un po' che qua... Ma guardala! Ma guardala! Uh, che mi è capitato? Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Ma quanti ce n'è di sti cazzo di pallet? Quanti? Eccolo. Eccolo. Dai, che ti prendo su. Sono finiti, eh? Eh. Ah, ce n'è uno lì. Guarda. a posto. Eh, no, no. Sì, sì. No, no. Guarda dove è andato. Ah, 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 ah. Merda! Merda! Ah. 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 Ci ha fatto. Oh, eccolo. Ma guarda un po'. C'è qui dentro. Ah. C'è qui dentro. Ah. Ah. no no di qua quella mia signorina io e la mia signorina stiamo sempre insieme il cazzo è Ehm... 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 Benedetto ho visto. Ehm... Eccolo qua. Prova a scapparmi! Merda! Ego! Ego! Eeeh! Eeeh! eh ragazzi miei maestro maestro sono sono il maestro ecco fatto sono morti tutti sono morti tutti sono morti tutti patata no c'è la patata la mia Melody Gigi sa che si sono offesi vediamo un po' di dove sono Melody stai giù pincel quanti amore c'erano? vabbè c'erano vabbè noob camper non ti rispondo neanche si camper ma proprio guarda è proprio il van c'è il camper c'è ragione c'è ragione sono un camper eh vabbè è così guarda non c'è l'acqua no non c'è l'acqua no poca eh vabbè noob camper ora guarda ora guarda guarda come sono un camper guarda 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 minchia sei passato orco mmm gaston per favore c'è mi sembra venuto a rompere i coglioni sulla chat veramente in english ok camper me if you say so i am the biggest camper in the world definitely the biggest camper ever yeah yeah biggest camper ever ok ok thank you bye bye oh i just ran away and hit no tunneling bye mmm mmm ah ok get it ok insati e non mi ingiorio il game cioè io veramente boh dovrei lasciarlo stare adesso no? dovrei lasciarlo stare dovrei lasciarlo andare no? eh no fai tunnel eh lasciamo andare andiamo dall'altra parte no? ma guarda sai che ti dico ma ssss ma ff ma comisore mi rompete i coglioni c'è veramente c'è veramente c'è guarda che quello era un premade ma proprio c'è da lontano un chilometro ecco tutto e lui fa tutto ebbene ciccio io c'è neanche cento ore a sto gioco c'è neanche devo migliorare quello che vuoi beh devo dire che non marchavo neanche male eh perverso cento novanta ore eh non starmi a rompere veramente i cosiddetti dovrei lasciarlo andare questo no? oh fai tunnel fai tunnel cioè è andata di nuovo di qua? ma allora ma allora ah c'è qua il gancio c'è qua c'è qua ma cosa mi sei venuto a rompere le palle? ma cosa mi sei venuto a rompere le palle? veramente veramente dovrei lasciarla andare adesso cioè cioè se è venuto veramente ora ora levo levo il link da steam dal mio canale twitch così non mi vengano a rompere i coglioni No, veramente Boh Magari se ci mettiamo ancora un po' più di tempo Camper Guarda Guarda com'è Camper, guarda Quando uno è lì sotto Guarda, guarda Noob Camper Segnalami Segnalami Non ce n'è problemi Segnali Dovrei lasciarlo andare questo, no? A quanto pare Faccio così, perdo tempo E lo lascia andare via Ah, su, per favore Ok Ah 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 mmmm enjoy your great audience your game style nooo non ho parole una parola è poco e due sono troppe ah tunneling tunneling guarda fa il tunneling se la prende sempre con uno ma guarda un po' che gara cioè veramente dopo su steam levo levo il coso levo il link è tutto veramente ma non non ce ne avete parenti più prossimi a cui rompere i coglioni non ce l'avete ah tunneling 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 eeeh mamma mia lo lascia andare perchè sennò faccio tunneling ma vaffanculo pensa a te pensa a te sta gente cioè che cazzo ti ha inculato tutto ah 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 qui suolito non ah 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 a E io vado da lei, perché faccio il tunneling. Ma è sempre lei? Un'altra? No, un'altra! Ma guarda, che cazzo vuole sta gente da me? Io non so, veramente. Ah, guarda, passa veramente la voglia. Ti passa veramente la voglia. A me non ci metto la faccia. Questa gente no. Allora, dietro al monitor, scrivono. Ma chi se ne frega, no? Cioè, ma mi rendete conto? Mi rendete conto? Che gente. Perché fai casino a te? No, non mi rendete conto? No, non mi rendete conto? Ah, guarda. Ah, guarda. Cioè, che cazzo vuole? Tull. Eh, no. Faccio... Eh. Ma ce la fai e non fa rumore? Ma che cazzo fa sta gente? Allora, levo il link da... Da Steam. Perché c'è... Se no, veramente... Vengono qua... A romperti il cazzo. Ma... Ma io non lo so. Ma scrivono in privato. Non lo scrivi in chat. Cioè, ma quando ti permetti? Come ti permetti? Come ti permetti? Ma... Cioè, no... Boh... Questo qua... Guarda... 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 Cosa mi trattiene... Cosa mi trattiene... E mi diverta... Cioè, non... Mi sembra far nulla di male... Magari uno può sbagliare... Oh... Allora... Eh, eh... Cioè... Vedi che... A me sta gente veramente mi rompe i coglioni. Non faccio male a nessuno... Cerco di divertirmi... Tac... Che culo... Che culo... Che culo... Che è andato... Che culo... È andato, dai... Dopo questa veramente... Mi... Mi... Guarda... E' gi... Io... Io... Sof... Cosa dice... Ben Monsnake... Cosa dice... Cosa dice... Es morse rapidus... Sp... Età... Ah... I've been played with all the French guys on I'm Italian Thank you Add me if you want Oh, e poi ti trovi delle persone del genere che ti fanno i complimenti Cioè, a caso, veramente Oh, no Capitarti che magari una partita cerchi di beccare Eh, il tunneling, eh, va bene E poi Arriva sto qua Sulla chat Diciamo, è vero che non c'è Perché non c'è nessuno solo in inglese Ma va a far culo Cioè, dai Per favore Per favore Vai Sì Chi ha Una parola troppo No, una parola è poco e due sono troppe Eh, guarda Guarda Tan 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 Buonanotte E buone botte Mmm